Il Comune di Napoli ha messo a disposizione la struttura che si trova a Ponticelli nell'area del Parco di Filippo, ed emergency la ristrutturata ed equipaggiata, realizzando un poliambulatorio che da lunedì al venerdì e dalle 9 alle 18 offre gratuitamente servizi di medicina di base e di orientamento sociosanitario per facilitare l'accesso al sistema sanitario dalle fasce più deboli della popolazione, senza nessuna discriminazione e con particolare riguardo verso italiani e stranieri che non hanno accesso alle cure mediche. È disponibile inoltre un ambulatorio infermieristico per iniezioni, controllo di parametri vitali, monitoraggio della terapia e medicazioni, un'attività che contribuisce anche a ridurre gli eccessivi ricorsi alle strutture di pronto soccorso. Abbiamo insieme fortemente voluto che una struttura abbandonata fosse restituita alla città come punto di riconoscimento del diritto alla salute per i più debole, per i cosiddetti ultimi, farlo insieme, tra Emergency che è una delle realtà più straordinarie del mondo, con Gino Strada e con tutte le donne e gli uomini di Emergency, con il Comune di Napoli e sta andando fortissimo perché qui si vengono a curare tante persone, napoletani che stanno in difficoltà, migranti, rom, il servizio di pediatria, quindi bambini. Grazie a tutti.